Nonostante il dato sull'inflazione registrato negli Stati Uniti a novembre, sia di quelli che insomma solitamente raggelano gli entusiasmi, diciamo così, al momento Wall Street sta salendo ancora. Insomma, la borsa americana, ma più in generale in quasi tutti i listini del mondo, sembrano essere immuni da qualsiasi notizia negativa. Nulla, diciamo, che può fermare i cosiddetti mercati. Se soltanto alcuni mesi fa, ecco, avessimo chiesto a qualsiasi operatore di borsa cosa sarebbe accaduto sui mercati, appunto, se fosse stata annunciata un'inflazione al 6,8%? Beh, avremmo avuto una risposta, direi, unanime, cioè ci sarebbe stato uno shock di enormi proporzioni. E invece oggi non... È stato annunciato che l'inflazione negli USA è arrivata al 6,8%, ma i mercati non hanno battuto ciglio. Anzi, come dicevo, stanno leggermente salendo. Un aumento dei prezzi del 6,8% negli USA, guardate che ci riporta indietro di 40 anni. Un ragazzo, un giovane americano, non l'aveva mai vista un'inflazione del genere. Attenzione! E poi, attenzione che molti americani sarebbero disposti a giurare che nella realtà il dato sia persino sottostimato. Per molti americani nell'ultimo anno i prezzi sono aumentati addirittura a doppia cifra. E ormai sappiamo tutti, insomma, che la storiella dell'aumento temporaneo di brevissima durata era una storiella inventata così per tranquillizzare la popolazione. Ma ripeto, che fosse una storiella inventata, ora lo dicono espressamente un po' tutti, il problema inflazione ci perseguiterà a lungo. D'altronde, se ancora oggi è in atto da parte della Federal Reserve un programma di acquisti di bond per 120 miliardi di dollari al mese, al mese 120 miliardi di dollari, ebbè, insomma, comprenderete tutti. E questi, attenzione, questi programmi di acquisto da parte della Banca Centrale Americana stanno proseguendo da anni. Come si poteva pensare che prima o poi non si sarebbero tramutati tutta questa montagna di soldi in inflazione? Ora si pensa che, appunto, dopo questo dato, ripeto, un dato perlomeno allarmante, un tasso di inflazione che non si vedeva da 40 anni e che in altri tempi, ripeto, avrebbe indotto la Banca Centrale ad aumentare i tassi, a portarli intorno al 6%, oggi invece sono a zero. Ora si pensa che invece l'annuncio, appunto, di questo dato, ripeto, produrrà così soltanto forse una minima riduzione del programma di acquisto da parte della Fed. E basta. Si parla di una riduzione degli acquisti di bond da parte della Fed dagli attuali 120 miliardi a 90 miliardi mensili. Tutto ciò è assurdo. Cari ascoltatori, se questi sono i presupposti, questa inflazione non potrà far altro che salire e durare a lungo. Veramente io non vedo altra alternativa. Ed allora, chiediamoci, è un problema solo statunitense? Ovviamente no. Come ci diceva JP dagli Stati Uniti ancora diverse settimane fa, l'aumento dei prezzi era ormai una prassi consolidata. E come sempre accade, quel che succede negli Stati Uniti poi dopo si replica in Europa. Al momento non siamo ancora, ripeto, ai livelli degli Stati Uniti, al 6,8%, ma insomma, ad esempio in Germania, ecco, in Germania l'inflazione a novembre è stata del 5,2%, in netto aumento rispetto al 4,5% del mese precedente. Ma ecco, qua in Germania non dobbiamo tornare indietro di 40 anni come appunto per gli Stati Uniti, per vedere un dato simile, ma comunque dobbiamo tornare indietro di 30 anni. Era 30 anni che i prezzi non salivano così in Germania. Insomma, dietro la locomotiva USA, in questo caso, il primo vagone è quello tedesco, ma poi è chiaro che seguiranno anche tutti gli altri Stati europei, ovviamente compreso il nostro. Non c'è motivo per pensare che questo trend inflazionistico si possa arrestare, a meno che, vabbè, non si ritorni a quei famigerati, io definirei sciagurati lockdown. D'altronde, sapete bene cosa sta arrivando, no? Quale slavina ci attende? Il nostro governo sbandiera adesso che verrà aumentato di un altro miliardo il fondo che servirà ad andare incontro al caro Bollette. Io, a parte che continuo a essere molto scettico, io ogni volta che sono stati annunciati aiuti dal nostro governo, io poi non li ho mai visti, ma io non ne ho beneficiato, quindi temo che anche questa volta questi aiuti rimangano sulla carta. Ma d'altronde, questa mia considerazione io la faccio spesso. Cari ascoltatori, la cosa è semplicissima. Gli aiuti del governo, anche qualora dovessero arrivare, da dove provengono? Non dico questi, intendo dire in generale. Quando il governo promette di aiutare i cittadini, erogando loro dei sussidi, questi sussidi da dove provengono? Ovviamente, banalmente, sono soltanto due le possibilità. O provengono da fondi che il nostro tesoro ha a disposizione, e il nostro tesoro ha una sola tipologia di entrate. E naturalmente sono le nostre tasse. Oppure ricorre a una nuova emissione monetaria. Quindi, in pratica, o sono sempre soldi nostri, quelli che appunto versiamo con le tasse dirette, indirette, balzelli vari, oppure si ricorre al debito pubblico, che inevitabilmente poi si trasformerà in inflazione. Insomma, non facciamoci illusioni. I pani e i pesci non li moltiplica nessun umano, nemmeno Mario Draghi. Anzi, con lui i pani e i pesci saranno razionati, perché continueranno a diminuire. Povera Italia.